Oggi il web è la maggiore risorsa di cui disponiamo, che ci permette di scambiare moltissime informazioni ad altissima velocità da ogni parte del mondo, con tutto il mondo, e di essere sempre più connessi fra di noi. Quello che non molti sanno, però, è che internet, come dice il nome stesso, è una rete nella quale è possibile navigare, ma che, come tutti i mari, contiene una superficie ed un fondale, un fondale buio e oscuro, ancora oggi misterioso. Avete mai sentito parlare della parte strana di YouTube? Per arrivarci vi basta cercare un video qualsiasi, ma sarebbe meglio qualcosa di giapponese, oppure qualcosa che contenga la parola strange o strano. Una volta scelto il video che vi sembra più interessante, guardate i video consigliati e scegliete quello più strano, in assoluto. E poi, nei video consigliati del nuovo video, scegliete quello più strano ancora, e poi ripetete il processo fino a quando, nei commenti del video, non troverete qualcosa che dice, sono di nuovo nella parte strana di YouTube. Questa parte è infatti il luogo di YouTube dove vengono depositati tutti quei video e quei file collegati fra loro per la loro natura bizzarra, anomala e incomprensibile. Ci sono veramente tantissimi video. Ma continuando a scavare nella parte strana di YouTube, sempre più in profondità, potete trovare anche tutti quei video che YouTube non approva ma che non ha il tempo di cancellare, dato che ogni minuto vengono caricati centinaia di minuti di video e non si possono controllare tutti. Se cercate abbastanza in profondità, inizierete a vedere video disturbanti, anomali e anche spaventosi. Troverete video di interventi chirurgici, sezioni di cadaveri, separazioni di salme, video di morti e macellerie di animali anche molto croente. Secondo alcuni, scavando abbastanza, potreste anche trovare video estremamente violenti o addirittura snuff movie, cioè film dove gli attori vengono realmente uccisi, anche se oggi sono ovunque illegali. Lo stesso processo però si può applicare anche ad internet. Tutti infatti avete sentito parlare del deep web. Il web però è diviso in una serie di livelli molto più numerosi e complessi e il deep web è solo uno di questi e neanche il più profondo. Il livello zero è la superficie, la punta dell'iceberg, è l'internet che vediamo tutti, quello che Google ci mette nelle prime pagine, i social network, i siti più famosi e i link numerosi. Google selezione premia le pagine che hanno più link e si collegano fra di loro, come in una sorta di ragnatela. Ma ci sono alcuni siti e alcune pagine che hanno pochi link e poche connessioni e quindi sono molto difficili da trovare e che Google esclude. Questo è il livello 1 o web di superficie. Potresti trovarci siti come Reddit, Congrate o Vampire Freaks. Sono siti molto molto difficili da trovare e i contenuti spesso sono molto strani, ma potete trovare anche contenuti e file che sono di incredibile rarità e che non troverete altrove. Il livello 2 è il Bergeweb. Qui troverete i primi risultati bloccati di Google, Web Servers e Server FFTP. Questa parte è molto importante, contiene il 90% delle informazioni che ci sono sul web e secondo alcuni qui troverete tutte le connessioni necessarie per avventurarvi nel deep web. Troverete siti come 4chan dove potreste trovare informazioni e link utili per arrivare nel deep web, ma fate attenzione. Da questo livello in giù troverete anche i primi pericoli, le prime comunità di hackers elementari e i primi virus. Lo scambio di informazioni spesso richiede autorizzazioni e ci sono ambienti privati. Troverete anche siti di streaming e webcam. Per entrare nel livello 3 vi servono dei proxy, in modo da evitare programmi di tracciamento. Questo è il deep web. Io sono riuscito ad ottenere alcune immagini, ma devo essere sincero, sono rimasto francamente scosso da quello che ho trovato e purtroppo non le posso mettere su YouTube perché verrebbero immediatamente censurate. Non sono state rare le immagini di cadaveri o di quelli che potevano sembrare bambini in pose e posizioni veramente orripilanti. Quindi purtroppo vi dovrete accontentare di qualche immagine esplicativa, le meno spaventose che ho trovato. Qui troverete qualsivoglia informazione strettamente illegale, nascosta da internet e dalle organizzazioni. Si trovano cose come pedopornografia, snuff movie, video gore, registrazioni di suicidio, hackings dei siti della CIA e dell'FBI e di importanti istituzioni e associazioni. Troverete comunità di hacking avanzate, traffico di armi e di organi e persino assassini su commissione. Dovrete munirvi di antivirus molto potenti, perché qui troverete dei virus davvero pericolosi e scoprirete anche come crearli. Vi saranno date delle informazioni su come accedere al livello 4 di internet. Attenzione, da questo momento in poi è vivamente consigliato l'uso di motori di ricerca come TOR per proseguire. Potete trovare anche un gruppo di cosmologia, database delle università di fisica americane, il network di sicurezza della Microsoft e addirittura algoritmi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. A livello 4, il Charter Web, invece troverete cose che definire illegali sarebbe riduttivo. State attenti a quello che scaricate, potreste far arrabbiare la persona sbagliata. Qui troverete molto più assassini su commissione, stupro, pedopornografia, schiavitù, massacri, commercio di armi rare, traffico umano, informazioni sensibili di scambio fra multinazionali, il vero mercato nero, film, libri, audio, banditi e illegali. È la versione più profonda e oscura del Deep Web, quella che già si può vedere nel livello 3, ma che ora è la normalità. Bisogna essere quasi paranoici per vivere tranquillamente in questo livello, dato che ogni cosa potrebbe condurvi al pericolo. Il livello 5 richiede un sistema di guscio chiuso che protegga il vostro pc, altrimenti non potrete fare 4 passi o vi verrà fritto, o peggio, potrebbe finire nelle mani sbagliate. Non si sa molto del livello 5 e dei livelli sotto, sappiamo però che contiene siti di informazioni sensibili nascosti a tutti quanti, note solo a pochissime persone che, appena vengono messe su internet, vengono subito cancellate. Cose come esperimenti su cavi umane, condotte dalle grandi nazioni, progetti segreti di grandi armi che utilizzano le tecnologie dello scienziato Nikola Tesla, vere e proprie intelligenze artificiali deboli. Quello che si trova sotto il livello 6, dove secondo alcuni si trovano quantum computer e quantum computing avanzatissimi, e dove c'è praticamente solo matematica avanzata, e ancora oggi molto misterioso. Si tratta di un mare di numeri e di algoritmi, ma che è abbastanza potente e intricato da influenzare tutto internet. È come il nucleo stesso di internet, ma è solo il nucleo esterno. Questa parte è accessibile soltanto non solo a chi è un grandissimo esperto di hacking, ma anche a chi è dotato di computer molto potenti ed è molto versato nella matematica più complessa. Infatti qui non saranno più utilizzate parole, ma soltanto numeri ed espressioni ed equazioni estremamente complicate per proseguire e andare avanti. La potenza di calcolo di questa parte di internet è indicibile. Coloro che riuscissero a penetrarlo avrebbero il controllo dell'intera rete, e potrebbero, di fatto, gestire il flusso di informazioni dell'intero pianeta, segnando il destino dell'intera umanità. Sempre che qualcuno non ci sia già riuscito, o qualcosa, ma per farlo sarebbe necessario un virus informatico molto potente e molto complesso, capace di prendere il controllo di più computer insieme per poter creare un'intelligenza artificiale forte e poter elaborare informazioni estremamente complesse al punto da dominare internet, che a quel punto diventerebbe come il suo cervello. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!